Buongiorno a Radio Giano Public History. Buongiorno a Radio Giano Public History. La festa della liberazione si festeggia ogni anno il 25 aprile, giorno dell'anniversario del proclama l'insurrezione generale da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Le fonti storiche scelte per le letture provengono da una selezione di estratti di alcuni articoli, testimonianze e speciali tratti dal giornale Noi Donne, nato nel 1944, proprio durante la guerra di liberazione e di resistenza, come foglio informativo e formativo per le donne, curato dalle componenti dei gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti per la libertà, aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale. Queste letture, accompagnate da brevi introduzioni al contesto storico degli anni trattati, fanno riferimento a una parte dei molteplici schieramenti che si sono creati a partire dall'8 settembre 1943 e permetteranno al pubblico di comprendere dal punto di vista storico l'importanza delle iniziative femminili di un certo schieramento durante la Resistenza, come la loro memoria sia stata costantemente rinnovata alle lettrici del giornale e come essa sia stata influenzata dal clima socio-politico nazionale nei diversi anni considerati. Il 1948 iniziò con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, che sancì ufficialmente l'avvio della vita democratica con l'affermazione dei diritti e dei doveri dei cittadini e delle cittadine. Il clima politico del Paese, però, divenne molto caldo a causa delle elezioni politiche di aprile e, in questa occasione, per la prima volta, la massa di cittadini e di cittadine aventi diritto di voto determinò il futuro del nuovo governo e, di conseguenza, il futuro politico del Paese. La redazione di Noi Donne dedicò il 25 aprile all'impegno delle donne per la libertà, il nome del sacrificio compiuto solo qualche anno prima. 25 aprile 1948, Noi Donne, numero 12, 1948 Il 25 aprile 1945, l'Italia riconquistava la sua libertà per l'eroismo dei suoi 462.000 partigiani e patrioti, 76.500 dei quali erano caduti nella lotta in campo aperto e nel martirio. Accanto ai combattenti e alle combattenti della libertà, quante donne non avevano contribuito a questa grande vittoria di tutto il popolo italiano, con il sacrificio, con il loro silenzioso eroismo? Esse furono ovunque dove era necessaria la loro opera, il loro coraggio. Migliaia furono le donne che, misconosciute, arrischiarono la prigione e la deportazione, la morte loro e dei loro cari. L'eroismo delle nostre partigiane resterà sempre, nella storia d'Italia, la più luminosa fiaccola della storia della libertà. Irma Bandiera, Norma Pratelli Parenti e centinaia di altre figure di eroine testimonieranno di quale coraggio ed eroismo furono capaci le donne del secondo risorgimento italiano. Per quanto esse hanno dato ed insegnato, un grande impegno restava da assolvere al popolo italiano il giuramento di salvaguardare le libertà democratiche per le quali tanto sangue era stato versato. Ancora oggi, tutto il popolo italiano è impegnato nel raggiungimento di questo obiettivo e con il popolo sono impegnate tutte le donne d'Italia, affinché non vi sia più dolore e sofferenza nelle nostre case, affinché il sacrificio delle nostre donne e dei nostri uomini migliori si perpetui nella storia ed in ognuno di noi. L'eroica lotta dei combattenti per la libertà vivrà sempre nei nostri cuori e ad essa terranno fede tutti gli uomini e le donne democratiche che ancora oggi, come ieri, come sempre, porteranno avanti sulla via della pace la bandiera della libertà. La redazione, direttrice Dina Rinaldi Il 1953 fu un anno cruciale per la politica nazionale e internazionale. Da una parte, la riforma elettorale proposta dalla democrazia cristiana e bollata come legge truffa dal Partito Comunista non passò in Parlamento, determinando la crisi del centrismo con il ritiro dalla scena politica di De Casperi. Dall'altra, la morte di Stalin avviò un nuovo ordine ai rapporti tra le due superpotenze, con riflessi inevitabili anche in ambito nazionale. Noi Donne propose per il 25 aprile un articolo in cui diede voce ai morti della Resistenza, come segno di risposta a questo clima di incertezza politica. 25 aprile 1953 Noi Donne Numero 17 1953 Vi è stata per il nostro paese una lunga stagione nella quale tutti i problemi familiari e sociali si sono identificati con la lotta contro il nazismo. Quella lotta si svolgeva su infiniti fronti, spesso in conflitti armati o in azioni clandestine che esponevano i combattenti a rappresaglie, a persecuzioni, a torture, a morte. Le donne hanno fatto proprio questo dovere nella misura della loro preparazione, della loro capacità di vedere la stretta dipendenza fra la liberazione dalla schiavitù nazista e la possibilità di una vita serena e produttiva delle loro famiglie. La maggior parte delle volte esse si sono trovate di fronte a quel problema per influenza dei mariti, dei figli, dei padri, impegnati nel combattimento. Il dovere per il quale i congiunti si battevano diventava il loro dovere. Era una specie di solidarietà fiduciosa che le conduceva, istintivamente, all'azione e molte volte al sacrificio. Ma spesso l'adesione al movimento di resistenza era frutto di convinzione personale, era una fede immaturata nell'intimo del cuore per ragionamento o per naturale rivolta contro le oppressioni che si rinnovavano, contro la violenza. Ci piace, in questi giorni dedicati alla celebrazione della resistenza, scorrere le pagine nelle quali, per l'amorosa cura di Piero Malvezzi e di Giovanni Pirelli, sono raccolte le lettere di alcuni partigiani condannati a morte. Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, editore in Audi. Fra queste lettere ne troviamo anche di donne. Franca Lanzone, casalinga di 25 anni, che ha sigillato la sua breve vita con il più laconico dei messaggi. C'è nelle sue parole una condanna e un superamento che vanno al di là dell'episodio tragico che la conduce a morte. Quella morte non è che la conclusione logica di una vita condotta in un'amara, tenace ribellione o in aspirazioni tormentate e contrastate. Dina Jovine Radio Giano Public History La tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Il 1958 è considerato per convenzione l'inizio del miracolo economico che sta ad indicare la crescita economica ed industriale che portò in quegli anni alla trasformazione dell'Italia da paese agricolo a paese sempre in più industrializzato. In un clima di cambiamento sociale ed economico a cui non seguì un'immediata risposta dal mondo politico e dal governo del democristiano Fanfani, lo speciale dedicato al 25 aprile ricordò le testimonianze della lotta partigiana per gli ideali di libertà e giustizia attraverso le lettere dei combattenti indirizzate ai propri cari in punto di morte con un pensiero speciale rivolto ai figli e alle figlie. Sono Aldo di Milano e leggo un articolo uscito su Noi Donne il 25 aprile del 1958 a cura di Margherita Ricci. Nel tredicesimo anniversario della liberazione tornano alla nostra memoria le parole degli eroi della Resistenza che in lettere indimenticabili ai familiari e agli amici lasciarono il loro testamento spirituale e la più toccante espressione dei loro pensieri e dei loro sentimenti. Verso i figli soprattutto si indirizzavano nel momento della morte le voci dei partigiani che volevano lasciare alle loro creature il ricordo più affettuoso e spiegare il perché del loro sacrificio. Volevano dire che morivano perché l'avvenire dei figli fosse migliore in un mondo in cui si fermassero per sempre ideali di libertà e di giustizia in cui fino alla fine avrebbero creduto. Paola Garelli, Mirca nata a Cuneo il 14 maggio 1916 pettinatrice arrestata il 15 ottobre 1944 nella propria casa a Savona fu fucilata senza processo il 1 novembre 1944 da un plotone fascista. Savona aprile Mimma Garelli aveva sei anni quando fu privata dell'affetto della madre una figura di donna sempre serena sempre attenta ai problemi di chi le viveva intorno e piena di attenzioni e di tenere primure per la sua bimba. Così la ricorda Mimma che parlando di lei aggiunge quando però si tratta di prendere una decisione piccolo o grande che fosse sapeva essere irremovibile. Sono 15 anni che la mamma è stata uccisa ma al rimpianto di averla perduta a mano a mano che diventavo grande si faceva strada in me un altro sentimento l'orgoglio per il suo sacrificio per la sua vita offerta per una causa così nobile come quella della liberazione della patria. Se pensa oggi al sacrificio di sua madre e di tante altre donne come lei Mimma persino si chiede perché non si sono realizzate tutte le loro speranze. Non volevano forse quelle donne e sua madre creare con la loro azione le condizioni per un mondo nuovo in cui trovassero posto i loro figli e vivesse una vita più facile più dignitosa e più giusta messa di fronte alle difficoltà e alla durezza della vita di oggi nel nostro paese Mimma dice di aver meglio compreso i sentimenti e il modo di pensare della sua mamma e di aver capito il senso più profondo delle sue parole. Io sono tranquilla scriveva Paola Garelli a sua figlia al momento della morte perché sapeva di aver fatto tutto il possibile e di essersi sacrificata per migliorare la vita di tutti e questa è la strada che bisogna continuare a percorrere Uniti Radio Giano Public History La tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Radio Giano Public History Ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it Nel 1962 il nuovo governo guidato da Fanfani con l'appoggio esterno del Partito Socialista Italiano formato grazie all'azione moderatrice di Aldo Moro portò in Italia importanti riforme come la nazionalizzazione dell'energia elettrica con la fondazione dell'Enel e l'estensione della scuola dell'obbligo gratuita fino alla scuola media unica D'altra parte però questo governo non riuscì a contrastare gli effetti negativi del miracolo economico che cominciarono ad essere evidenti Infatti per il 25 aprile ciò venne constatato nello speciale dedicato alla città di Napoli medaglia d'oro al valore militare Florena Iavarone Pescara 25 aprile 1962 Noi donne numero 17 1962 La medaglia d'oro della resistenza medaglia d'oro al valore militare nota della redazione affissa sull'abaro del comune di Napoli ricorda il sacrificio di tutti i ragazzi le donne gli uomini i vecchi di tutti coloro che nella città combatterono e morirono per liberare l'Italia dal fascismo per dare al paese la libertà e un nuovo regime di democrazia con i giovani d'oggi con quelli venuti dopo abbiamo voluto parlare in occasione del 17esimo anniversario della liberazione nel tentativo di verificare quanti obiettivi posti dalla resistenza sono stati realizzati e quanti sono ancora da raggiungere nelle coscienze e nelle cose li abbiamo fermati per le strade nei vicoli li abbiamo raggiunti a casa sui luoghi di lavoro nelle scuole sono tutti venuti dopo quelli che abbiamo intervistato giovani e ragazze dai 13 ai 17 anni la guerra era finita quando sono nati i partigiani erano discesi a valle il ferro e il fuoco delle quattro giornate a Napoli era già spento attraverso di loro abbiamo ritrovato gli squilibri le contraddizioni le profonde ingiustizie della società attuale la disoccupazione l'analfabetismo lo sfruttamento dei minori la mancanza di case la miseria ma in loro abbiamo anche ravvisato la coscienza di questi squilibri e la volontà di superarli che cos'altro se non questo ha voluto dire Antonio l'analfabeta quando esprime come suo più grande desiderio quello di imparare un mestiere e Giovanni che afferma la stessa cosa e Salvatore che soffre per le condizioni di miseria della città e Fiorenza che considera l'Italia sulla buona strada ma vede ancora lungo e difficile il tirocinio per l'acquisizione completa della libertà e della democrazia e tutti quei ragazzi che già a 12 13 anni si sentono impegnati anche se i genitori non parlano con loro certo c'è anche chi pensa che i partiti facciano solo chiacchiere e chi a 12 anni spera di imparare un mestiere ed emigrare andare via da Napoli in Svezia perché lì si lavora e si guadagna meglio c'è anche chi vorrebbe il ritorno della monarchia oppure leggendo Grand Hotel sogna di partire per le Hawaii le contraddizioni sono fuori di loro e in loro ma con una linea di sviluppo di orientamento un atteggiamento nei confronti della vita e dell'avvenire è sostanzialmente critico e perciò stesso positivo e fiducioso sono venuti dopo l'esperienza della resistenza non è stata vissuta direttamente da loro ma i genitori loro che sanno che ricordano che giuricano perché non parlano di queste cose ai loro figli e perché la scuola non fa conoscere a questi ragazzi quello che vi fu prima di loro e quello che non deve ritornare mai più in questo senso abbiamo trovato i ragazzi soli sproveduti con i genitori non parlano hanno appena il tempo di guardare assieme la televisione di andare a letto c'è un vuoto in loro che né la famiglia né la società riescono a colmare ed è un grande male perché la conoscenza di quello che fu il fascismo di quello che significò la resistenza delle ragioni per cui tanti italiani combatterono e morirono degli ideali e dei programmi su cui è stata fondata la nuova Italia contribuirebbe a dare una forza maggiore una sicurezza maggiore una fiducia più piena ai giovani venuti dopo Andrea Geremica politico giornalista scrittore intellettuale è stato un leader storico della sinistra a Napoli Nel 1969 continuò ad essere viva la stagione dei movimenti di protesta iniziata l'anno precedente il movimento studentesco continuò la stazione anche dopo gli eventi del 68 avviando un incontro solitale con il movimento operaio quest'ultimo diede vita a una serie di scioperi in estate e in autunno il movimento femminista invece era ancora in una fase iniziale di creazione dei primi gruppi il clima di fermento politico e sociale di quel periodo quindi influì sulle celebrazioni del 25 aprile per le quali lo speciale di noi donne concentrò l'attenzione sulle caratteristiche tipiche della resistenza italiana rispetto alle altre resistenze europee la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Camilla Chiaranzelli Roma 25 aprile 1969 Noi donne numero 17 del 1969 la resistenza è stata la lotta armata del popolo italiano guidato dai partiti antifascisti riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale il CLN contro i tedeschi e i fascisti della Repubblica Sociale Italiana una grande guerriglia di popolo dal settembre del 1943 all'aprile del 1945 se la resistenza italiana inizia sul piano strettamente ecologico colatata l'8 settembre 1943 le sue radici ideali e politiche affondano ben più in lontano sono quelle stesse dell'antifascismo storicamente cioè la resistenza italiana ha avuto inizio sin dai primi giorni del sorgere del fascismo quando all'inizio degli anni 20 la monarchia decise di rispondere alle pressanti aspirazioni popolari di giustizia sociale e di rinnovamento con l'istituzionalizzazione della violenza squadrista ecco il primo tempo della resistenza la lunga cospirazione sotto il regime fascista e i nomi indimenticabili di Giovanni Amendola Piero Gobetti fratelli Rosselli Don Menzoni Antonio Gramsci e il secondo tempo quello degli anni della guerra di Spagna alla quale parteciparono gli antifascisti italiani inquadrati nelle prime brigate garibaldi infine l'inizio della guerra fascista culminata il 25 luglio 43 con la vergognosa caduta di Mussolini e dei suoi gerarchi eliminata dalla scena politica dal loro antico complice Vittorio Emanuele III il quale sperava così di attenuare in qualche modo gli effetti che si profilavano disastrosi della guerra ormai persa il secondo tempo della resistenza è quello della lotta armata la guerriglia italiana contro i nazifascisti fa parte di un fatto più ampio che investe l'intera Europa è un aspetto dell'identica lotta che tutti i popoli europei conducevano contro lo stesso nemico la stessa parola resistenza è nata in Francia si tratta dunque dell'ultimo atto della conclusione di una lotta ventennale combattuta in Italia e sull'intero continente europeo contro la barbara nazifascista il secondo elemento distintivo della resistenza italiana oltre a quello della sua universalità ideale è dato dalla sua caratteristica politica per la prima volta nella storia d'Italia le grandi masse contadine e operaie partecipano direttamente agli avvenimenti che le interessano per la prima volta sono esse stesse a prendere in mano consapevolmente il proprio destino se il risorgimento italiano era stato un fatto di elite questa volta si verifica un fenomeno del tutto contrario ed è per questo che i tre anni di fuoco che vanno all'8 settembre e al 25 aprile dall'inizio della lotta all'insurrezione generale sono stati giustamente definiti il secondo risorgimento italiano oltre atto caratteristico della resistenza è il suo carattere unitario naturalmente il contributo dei singoli partiti alla lotta armata sarà più o meno preponderante a seconda della loro forza e della loro presa sulle masse popolari si guardi per esempio la differenza tra l'organico delle comuniste brigate garibaldi 1090 brigate in tutto e le sparute formazioni monarchiche qualche migliaio di uomini in ogni caso un internazionale che si determinò nella resistenza sia al suo vertice che alla sua base combattente rimarrà come uno degli elementi più profondamente originali e democratici della nostra storia e determinerà a liberazione avvenuta quel nuovo indirizzo sociale e civile che sfocerà nella formazione dello stato repubblicano l'organico l'organico di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it. Per il 12 e il 13 maggio 1974 fu indetto il referendum abrogativo per la legge sul divorzio approvata nel 1970. La campagna elettorale fu molto accesa e partecipata da entrambi le fazioni, per il sì e per il no. Si dimostrò essere moderna, tanto che il sistema di votazione venne spiegato in televisione e lo schieramento per il no utilizzò dei testimonial per creare associazioni mentali. Il fermento elettorale del referendum dimostrò un cambiamento nei consumi e nella morale degli italiani e delle italiane. L'articolo sulle donne è preso evidente questo cambiamento anche durante le celebrazioni per il 25 aprile, associando il passato della resistenza all'attualità delle lotte sociali. Salve, sono Renata Mascia di San Giuliano di Puglia, Campobasto, Ulise. 25 aprile 1974. Noi donne. Numero 17. 1974. Nel settembre del 1944, Marzapotto è un comune di Scipte e 5.000 additanti. Gli uomini validi sono in montagna con i partigiani della Stella Rossa o in guerra. Una gran parte di donne, bambini e vecchi sono spollati sulla Cocoro. Un triangolo di terra concime di 800.000 metri che ha il vertice verso il strasto Marcone e gli lati segnati tra il fiume Reno e il torrente Setta. È ritenuto un luogo protetto perché abbastato di non facile accesso rispetto alle grandi lievi comunicazioni e rifletto dai attività. La linea del fronte è vicina a porrezza, ma qui gli alleati si fermano e le nazi facciose e ne approfittano. Ritengono che la Cocoro sia la montagna più scalda e decidono di farne un capocaldo del loro esercito. Però in quei luoghi ci sono i partigiani e tutti i raffreddamenti precedenti hanno provato che non possono essere cacciati. L'unico mezzo è quello di distruggere tutto. Così i reparti delle stesse incominciano a circondare la zona, a bruciare tutto quello che trovano sul loro cammino. La gente spaventata cerca il campo nelle chiesze, nei boschi, ma la furia inaculta non si è aperta davanti a nulla. 1830 persone, in massima parte, le donne e bambini vengono uccisi nei modi più barbari. Che la strage non fu vincu' si sopra i giorni, quasi che la furia nazista volesse guinnare ogni chiesce in dente della zona. Anche quando si allontanano, lasciano mine ovunque. Così i morti aumentano e nemmeno ordi a macciavotto si sa con cestezza quanti ne sono mancati. Basta dire che nel 1951 la popolazione del comune contava ancora mille unità in meno del 1944 e il numero delle donne era stato sempre maggiore. Era inferiore a quello degli uomini. Siamo tornati a macciavotto. Sono passati trent'anni e il paese è ricostruito. Le case tutte nuove hanno quasi contentamente sosteguito le baracche progiorie messe alla fine della guerra, come rifugio per chi era restato, per chi tornerà dal fronte. «Sulla cocorro non ci diverte nessuno. Le case rimatte e sono vuote. Una lapide qua, una piccola stella là, ne stigliano con lunghi elenchi rimosti il perché. La gente ha ripreso a vivere, a dotare, a partecipare. Così abbiamo voluto sentire cosa pensano del referendum. Come voteranno il 12 maggio e soprattutto come spiegano le donne il loro voto?» «Ho sentito gli argomenti che usa il mirante contro il divorzio», disse Anna Dainesi. «Gli pescesti sono sempre di stessi. Parlano di debolezza della donna e di volerla proteggere. Ci vogliono proteggere oggi, non ieri quando ne avevamo bisogno. Ho raccolto tanta forza dentro di me in questi anni. Ho capito che bisogna avere le idee chiare. C'è paura a bussarmi in divorzio, visto che è un diritto civile, una conquista di libertà. Gli frascisti non sono mai preoccupati delle donne. Se ne sono serviti, hanno presunito che in loro alleati, in altissimi, ne considerassero niente. Perché loro le consideravano in altra specie. «Ma oggi siamo persone anche noi. Io parlo con mio marito, discuto con lui di cosa, di quello che succede nell'educazione degli figli. E adesso, sia il maschio che la femmina, insegno ad essere uguali. Perché uguali agli uomini lo siamo stati nei momenti peggiori». «Ad escisa Fanti hanno trovato il marito, la figlia di venti anni, è morta per una granata. Il figlio era stato ripostato in Germania, da dove fu nato alla fine della guerra. La troviamo intenta a cucire insieme alla nuora. Ormai, bit nonna, sembra stanta, sembra quasi mancapire. Ma invece c'è scorta a discutere con la nuora, per poi che interviene calma. Bisogna votare, no per i figli. Per i figli dei figli. Mi rende l'afferdo all'uiesio». Il 1978 fu un anno contraddittorio per l'Italia. Se da una parte con il rapimento e l'omicidio del presidente democristiano Aldo Moro da parte delle Brigade Rosse, il paese sembra essere sull'orlo di una crisi sistemica, dall'altra invece il governo Andreotti, con il sostegno del Partito Comunista, ha provato importanti leggi, che prevedevano la creazione del sistema sanitario nazionale e la depenalizzazione dell'aborto. Il 25 aprile, quindi, patì questo momento di crisi sociopolitica, tanto che noi donne sentì il bisogno di ritornare a riflettere sulle origini della democrazia e sul ruolo delle donne nella resistenza. Mi chiamo Pablo Giovanni Buonsignori. Leggo una piccola riflessione di Ada Gobetti. 25 aprile 1978. Noi donne. Numero 17,1978. Erano stati creati i gruppi di difesa della donna, creando la più grande organizzazione per l'emancipazione femminile in Italia. E' una riflessione che Ada Gobetti portò al congresso dell'Unione Donne in Italia del 1964, quando celebriamo insieme i vent'anni della nostra nascita e i vent'anni della resistenza. Chi era Ada? Ada era come Gisella Florianini. Una delle più grandi testarde e delle più convinte nel nostro movimento della specificità della lotta della donna. Morì dieci anni fa, nel marzo 1968, durante la resistenza appartenne ai gruppi di giustizia e libertà, che facevano capo al partito d'azione e ai gruppi di difesa della donna. Molte donne arrivarono alla resistenza con una più matura coscienza. Io, benché avessi dietro di me una pur breve tradizione antifascista, ci arrivai intimamente sprovveduta. Avevo un discreto bagaglio intellettuale, ma pochissima esperienza reale. Direi che, per quello che riguarda l'emancipazione percorsi in quei mesi, la strada inversa di quella percorsa da molte donne, arrivai, cioè, dal concreto intellettuale e astratto dell'uguaglianza e dell'emancipazione della donna a una conoscenza reale e attuale di questa realtà. Posso dire che scoprì la donna, scoprì i problemi della donna. Ricordo che quando, nell'ottobre del 1943, mi parlarono dei gruppi di difesa della donna e di assistenza ai combattenti per la libertà, ebbi da principio una reazione quasi negativa. Perché difesa? Perché assistenza? Perché della donna? Nella mia visione astratta della realtà, io vedevo un'unica battaglia che riuniva uomini e donne per gli stessi scopi. Accettai comunque di occuparmene, forse soprattutto per un sentimento di dovere. Ma bastarono pochi mesi, forse poche settimane, perché comprendessi benissimo il significato e l'importanza di quelle parole, di quei termini che prima mi erano sembrati incomprensibili. Perché difesa? Ma proprio perché, direttamente creatrice di vita, la donna è portata più ancora dell'uomo a difenderla. Perché assistenza? Perché proprio perché disponibile, perché comprensivamente materna? La donna vede nel compito dell'assistenza una delle sue espressioni principali. E perché della donna? Perché la donna ha in sé qualità, virtù, possibilità di cui fino allora non aveva conoscenza e che potevano essere invece sviluppate in grandi virtù, creatrice di un mondo diverso. Così, giorno per giorno, vedi emergere dal lavoro all'interno dei gruppi di difesa queste possibilità, queste qualità, queste virtù. E vedendole nascere, non potevo fare a meno di sognare un mondo in cui queste virtù potessero veramente affermarsi in una forza della donna, non dovesse essere spesa in uno sforzo per adeguarla, eguagliarla. a quella degli uomini, per adattarla ad una società creata dagli uomini, ma in un lavoro, in una volontà di rinnovare il mondo secondo questa visione, secondo queste forze nuove che venivano allora maturando nel calore della lotta. Adagobetti, intervento, al settimo congresso dell'Unione Donne Italiane. Roma, 4-7 giugno 1964 Sei all'ascolto di Radio Giano Public History? Nel 1984 il sistema politico italiano era cristallizzato da qualche anno. La mancanza di una risposta adeguata da parte del governo guidato da Craxi e delle altre forze politiche, un partito indecolare del Partito Comunista post-Berlinguer, era evidente, e determinò un aumento della sfiducia della popolazione nella classe politica e nel governo, i quali offrivano una vuota prospettiva di benessere senza fine. In questo anno ricorsi il quarantesimo anniversario di importanti avvenimenti accaduti durante la Resistenza e Noi Donne decisi di dedicare per l'occasione un articolo alle attività di vita quotidiane, svolta nel 1944. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Simone Gerardi da Milano e leggerò un articolo di Mirella Aloisio tratto da Noi Donne, 25 aprile 1984. Fame, paura, bombardamenti sono gli elementi che unificano il paese anche se questo quarto anno di guerra è vissuto dagli italiani in condizioni diverse. Il sud fino a Napoli è già liberato, il centro vive i giorni esaltanti della liberazione, il nord occupato dai nazisti intensifica la resistenza. Il 2 gennaio 1944 gli americani sbarcarono ad Anzio si apre la speranza di una rapida soluzione della guerra ma l'avanzata alleata si arresterà sulla linea gotica. Come eravamo? Come vivevamo allora? Abbiamo scelto di ripercorrere quell'anno proprio attraverso la quotidianità delle donne. Ci hanno aiutato Noi Donne che usciva nell'Italia liberata e i nostri ricordi. Mi rimarrà per sempre, nelle orecchie, l'unulato sinistro delle sirene di allarme. Se ero fuori per azioni partigiane e non me ne curavo, quando potevo continuavo il mio lavoro. Ma se ero a casa bisognava correre in cantina, un rifugio che, secondo mio padre, ci avrebbe fatto fare la morte del topo. Tuttavia restare in casa all'ultimo piano con le mitragliatrici della contraerea che fischiavano sulla testa e con il rischio che qualche proiettile ti arrivasse in camera, visto che il bersaglio, per fortuna, non veniva mai colpito, era pure peggio. Così, mezzo addormentata sera di notte, infuriata se stavo mangiando, seguivo mia madre nelle sue corse frenetiche per le stanze, cercando di aiutarla a raccogliere i nostri beni preziosi. Tessere, annonari e quattro pezzi d'oro era quasi tutto stato venduto, sempre ben nascosti per salvarli dalle razzie della decima massa quando veniva a fare le perquisizioni. Le coperte, il cappotto anche sera d'estate, perché non si sa mai. E, finalmente, infilavamo le scale di corsa ed entravamo in quello che era stato battezzato rifugio antiaereo. Una cantina puntellata con travi di legno, al cui ingresso, dove c'era, appena lo spazio per passare, stava un pesante cassone pieno di sabbia, che, per quanto mi riguardava, aveva un solo pregio. Ci nascondevo, salendo su una scala a pioli, i documenti del Comitato di Liberazione Nazionale Regionale. A volte nel rifugio passavamo nottate intere, altre volte eravamo appena scesi, che già suonava il cessato allarme. Proprio nel giugno di quell'anno, non ricordo bene, era un fatto straordinario, ci avevano regalato delle ciliegie. 15 a testa, ogni cosa veniva divisa con equità. Ebbene, riuscì a mangiarle in cinque tempi, negli intervalli tra cinque allarmi. Perché non le portai con me? Non so proprio spiegarmelo, ma so che in certe circostanze è difficile essere razionali. Nella mia casa, né tutta la zona industriale in cui vivevo, furono mai colpite. Sembrava che gli obiettivi militari non interessassero i nostri amici, dal momento che a farne le spese erano sempre gli edifici di abitazione. Ogni volta che, dopo un bombardamento, tornavo nel centro di Genova, l'aspetto familiare di case e piazze era mutato. Inattesi vuoti si spalancavano sul cielo e i muri superstiti sembravano gruviere nere per le schegge e gli incendi. Quando colpirono il sicuro rifugio della Galleria delle Grazie, non si seppe mai quanta gente vi morì e quanti bambini e donne furono schiacciati nel tentativo di fuggire, decidemmo che non saremmo mai tornati in cantina, ma saremmo scesi semplicemente nella strada. Durò poco, faceva freddo, e poi nel rifugio eravamo in tanti. Ci si faceva compagnia, ci si dava coraggio. Mirella Aloisio Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.